Ma soprattutto tantissimi applausi per il nostro ospite di oggi, Walter Cherubini, consulta periferi Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a tutti e ben ritrovati, anche i nostri radio ascoltatori naturalmente. Allora, oggi iniziamo a parlare di periferie prendendo spunto da una intervista di pochi giorni fa dell'ex sindaco Albertini, dove è stato interpellato sugli ambrogini d'oro, dove ha fatto un mea culpa in un certo senso, giusto Walter? Cos'è che ha detto precisamente lui? Sì, aveva detto che secondo lui l'errore era di non essersi opposto, diciamo così, alle richieste, alle proposte dell'allora presidente del Consiglio Comunale di Milano, che era Massimo De Carolis in particolare, e quindi avere assegnato al Consiglio Comunale la definizione, la scelta degli ambrogini. Ambrogini che appunto vedremo giovedì, 7 dicembre, Teatro dal Verme, la mattina ci sarà la consegna, con anche le motivazioni che vengono lette, molto curiosi tutti di leggere le motivazioni di Pucci, che abbiamo mosso un po' le acque, ma la cosa che più ci ha colpito è un passaggio verso la fine di questa intervista, giusto Walter? Sì, diciamo che... Dove l'ex sindaco Albertini tira in ballo i tombini. Cosa ha detto? Leggiamo bene, ne dici Walter. Il tema di fondo era un pochettino questo, nel senso che dice, vabbè, lui commentava un attimino la condizione di sala, anche di questa uscita sugli ambrogini del debito al Consiglio Comunale, insomma, di aver fatto un po' di scelte particolari. Gestione clientelare, abbiamo parlato, va bene. Ecco, quindi il tema che lui ha posto è il ruolo del sindaco è un peso gigantesco. Il sindaco di una grande città, responsabilità politiche, di un ministro di serie A, responsabilità gestionali e il chiacchiericcio del condominio che gli chiede le strategie per il futuro, ma anche che quel tombino non debba tracimare. Ecco, il tema è proprio di questa natura, nel senso che se noi chiediamo a un ministro di serie A di occuparsi anche del tombino sotto casa mia, capite che come organizzazione non ci siamo. Abbiamo un problema. Cioè, rimangono i problemi, proprio perché se noi abbiamo questo tipo di impostazione che il sindaco, diciamo pure, di una delle due più importanti città d'Italia, si debba occupare anche del tombino che sta in qualche quartiere in giro disperso, dove volete che andiamo a parare? Esattamente da nessuna parte, quindi continuiamo a avere i tombini che rimangono un po', proprio perché c'è una struttura organizzativa, ma che è quella ereditata dal 1872, dove allora il sindaco Bellinzaghi aveva il governo di 9 km quadrati, cioè del centro storico nella sostanza, e questa organizzazione, malgrado appunto nel 1873 la città di Milano si è andata allargando per estensione territoriale da 9 a 76 km quadrati, quindi quasi decuplicando, e poi arrivando 50 anni dopo, nel 1923, con l'aggregazione degli 11 comuni, i cosiddetti con termini da Affori, Aniguarda, Crescenzago, Baggio, Trenno, Musocco, Chiaravalle milanese, l'organizzazione è sempre rimasta quella, in particolare certificata proprio dal comunicato ai milanesi, da parte dell'allora sindaco Mangiagalli, dove diceva che aggregati comuni, le prerogative amministrative di questi comuni venivano assunte dal comune di Milano, cioè trasportate da Palazzo Marino. Ecco, da Palazzo Marino uno dovrebbe vedere il tombino, è una cosa che non si può vedere, infatti non la si vede. Eh, non è molto facile vederla, tant'è che proprio su questa idea, poi negli anni 60, più o meno nasce l'idea del decentramento. Decentramento che, come dite spesso, è rimasta però, carta morta, lì, senza applicazione, lettera morta, senza applicazione, nonostante voi spesso volentieri avete proposto delle idee su come gestire il decentramento. Davanti a te vedevamo prima, hai portato qui un puscolo che avete fatto come consulta periferie, credo no, consulta periferie Milano. Del 2007, no? E si intitola Problemi delle periferie e ruolo dei consigli di zona. 2007, anno delle periferie di Milano, così no? E sarebbe bello di dire, oh Walter, beh, che bello, tutto quello che ho scritto lì dentro ormai è tutto andato, è finito, hanno sistemato tutto quello che avete scritto qua dentro. Invece non è così. Ma siamo ancora... Cioè potremmo cambiare l'anno e ridaglielo così in mano. Problemi delle periferie e ruolo dei consigli di zona. Adesso dovremmo dire ruolo dei municipi. Togliamo zona che è un municipio e il 2007 lo faccio dentro il 2023. Ma al di là di quello che abbiamo fatto noi, il problema è che i consigli comunali e i consigli comunali che si sono succeduti non è che sono stati veramente a dormire. Quindi noi abbiamo avuto nel 68-69 l'introduzione del decentramento amministrativo con l'individuazione di 20 consigli di zona. 20 consigli di zona che anche rispondevano dal punto di vista dei confini territoriali un po' a quelli che erano anche gli antichi comuni milanesi. Questo qui è il primo dato. Con un regolamento anche in particolare deliberato nel 1977 che prevedeva tutta una serie di possibilità da parte dell'amministrazione decentrata quindi dei consigli di zona di intervenire effettivamente. Pensate che aveva anche la possibilità di intervenire in parte sull'istituto autonomo case popolari. Quindi le nostre case popolari che oggi sono gestite in parte da Regione Lombardia tramite ALER e dal Comune di Milano di proprietà del Comune di Milano tramite MMSPA. Ecco oggi come oggi nel regolamento dei municipi e quindi stiamo parlando del 2016 i municipi hanno competenza per l'edilizia privata ma non per l'edilizia pubblica. Ecco queste sono le cose. Ci sono esempi che ci sono anche in questo opuscolo e che appunto come dicevo sono rimaste proprio lì. Ho visto che appunto c'era il tema della casa, i mobili comunali chi li gestisce? C'è ad esempio questa domanda. Adesso hai i mobili comunali chi li riempie perché poi sappiamo di quanto rimane sfitto, la sussidiarietà che cosa significa, poi c'è tutta l'organizzazione metodo e proposta. Anzi questo qui dell'organizzazione lo andiamo a rivedere, quello che tu chiami a canne d'organo, giusto? Che però non si parla tanto di loro, no? Com'è che funzionava? Dopo me lo racconti meglio dai. Allora andiamo con un po' di musica così poi con Walter capiamo bene che le soluzioni esistono e si possono applicare, giusto Walter? C'è chi è chi è chi è chi è chi. Perfetto e allora andiamo avanti con i Bastille con Shout of the Light alle 8.41 qui su Crystal Radio. Bastille, Bastille che ci danno di nuovo il passaggio qui a Crystal Radio e ci dicono che dobbiamo parlare di periferie, ci hanno detto loro. Ci hanno chiamato e ha detto, oui monsieur, bonjour, bonjour, non sono francesi. Perché stiamo andando per assunto che siano francesi i Bastille. Siamo Bastille. Non so. No, non credo che siano francesi. Walter allora... Ma che mani si chiamano male? Non sono svedesi. Walter allora abbiamo parlato di organizzazione, lettera morta finora, ma una lettera morta che ogni tanto viene richiamata, perché insomma i consigli comunali in questi anni si sono espressi in realtà, però poi... Certamente, con il regolamento del 1977 approvato che però è rimasto lettera morta per vent'anni. Dopodiché è stato fatto un nuovo regolamento nel 1997 che è rimasto lettera morta anche lui per 19 anni questa volta, sostituito dal regolamento dei municipi. Regolamento dei municipi che in verità, tutti quanti gli osservatori e anche chi c'era dentro, hanno detto non l'abbiamo fatto per dare una nuova struttura organizzativa territoriale all'amministrazione comunale, ma è stato fatto legandola alle leggi del Rio che prevedeva una diversa organizzazione dei comuni in vista delle elezioni dirette del sindaco della città metropolitana, perché oggi il sindaco della città metropolitana, che è il sindaco di Milano, quindi Sala, è eletto indirettamente, diciamo così, non dal popolo, ma dai consiglieri eletti nei comuni che compongono la città metropolitana. E' eletto, cioè viene confermato, di legge, quello del capologo diventa... Sì, quello sì, ma sono loro che poi anche per quanto riguarda la composizione del consiglio della città metropolitana, quindi c'è questa elezione indiretta. Ecco, quindi noi andiamo un attimino anche a vedere quali erano le motivazioni, quindi abbiamo detto prima che, diciamo così, le circoscrizioni territoriali erano abbastanza simili a quelle che erano gli antichi comuni milanesi, ma perché dal punto di vista dell'identità il comune di Milano è significativo, importante da questo punto di vista. Ecco, direi che il punto fondamentale, uno dice ma questo decentramento e questi consigli di zona che cosa dovevano servire? Il consiglio di zona è chiamato ad assumere le funzioni di luogo del governo amministrativo della zona, configurando il governo urbano come un sistema politico policentrico. Chi ha scritto questa cosa in un testo del 1975 era l'allora assessore al decentramento, nonché poi vice sindaco di Milano, Andrea Borruso, che era stato proprio il propugnatore di questa cosa. Quindi si configurava una logica di governo amministrativo della zona in una logica policentrica. E qui possiamo chiudere dicendo, se non hai un'amministrazione policentrica, la città policentrica che tanto si narra non ci sarà mai, perché se hai un'amministrazione centralistica è difficile avere una città policentrica, infatti hai il problema dei tombini. Eh sì, questo è il tema. Poi pensiamo a questa cosa, quando parliamo delle 20 zone, cioè se noi facciamo, adesso siamo 1.600.000 abitanti, 1.400.000 abitanti, comunque sta di fatto che sono una media di, adesso i 9 municipi hanno una media di 170.000-160.000 abitanti a municipio, se calcoliamo anche l'uno che ne ha pochi e il 9 che ne ha 190.000 più o meno. Anche se dividi per 20, comunque se parlano di 70-80.000 persone a zona, a municipio, cioè è un provincia, un comune, cioè capoluogo di provincia tranquillamente, nel senso non stiamo parlando di... Diciamo che è uno tra i più grandi perché dopo Brescia che ne ha 190.000 quanti ne ha il municipio 9 oggi, piuttosto che Bergamo che ne ha oltre 120.000 quanti, il più piccolo municipio dal punto di vista dei residenti, che è quello del 5, e sì sono importanti città. Ma è importante dire che se anche fossero 20, sono tantissimi i 20 municipi, in realtà hai delle fette di territorio, magari un po' più piccole sì, ma con 50, 60, 70.000 abitanti, che insomma non è proprio... non so la città di Aosta quanto faccia, ma non credo che faccia molti di più. Ma la regione... Tutta la regione va da Aosta, piuttosto che alla Basilicata. Saluto gli amici della Basilicata. Quindi questo qui è il punto, a che cosa era servito il decentramento amministrativo introdotto ormai più di 50 anni fa, proprio al governo amministrativo della zona. Quindi il consiglio di zona era chiamato a fare il governo amministrativo della zona. Come è andata a finire? A che punto siamo oggi? Ecco questa qui è la domanda, ma c'è anche la risposta. Che siamo esattamente all'intenzione di 50 anni fa, dove come diceva il sindaco Albertini, che ha fatto due mandati tra le altre cose, quindi ha ben presente la vicenda, si deve occupare del tombino. Ma è chiaro che al sindaco Sala gli dovremmo chiedere, ma ha ragione, ha letto bene il sindaco Albertini che il sindaco si deve occupare del tombino? E secondo lei oggi un sindaco si deve occupare del tombino? Perché se la risposta è sì, stiamo così. Se invece la risposta è no, non mi devo occupare del tombino, allora di questo tombino se ne deve occupare qualcun altro. Perché altrimenti, come oggi è, per esempio, di numerose proprietà del comune di Milano, che sono abbandonate, degradate, ma proprio perché avere un appartamento nel territorio milanese è uguale avere il tombino. Se ti devi occupare del tombino e dell'appartamento, qual è il risultato? È che non riesci a occuparti del tombino, non perché non vuoi, ma perché non riesci organizzativamente. Se io mi organizzo Milano come un negoziante che ha il suo negozio, magari grande, 100 metri quadri, 200, è chiaro che all'incirca fa tutto lui, ma nel momento in cui io ho una catena di supermercati, il negoziante che ragiona sempre con la stessa mentalità è destinato a fallire. Quindi Milano può essere gestita come un negozio? No, perché non è baranzate già di bollate, che sono meno di 3 km quadrati. Milano ne ha 181 e quindi si deve dare un'organizzazione. C'è stato un tentativo, sì, ma sono sempre stati bloccati poi regolamenti attuativi. Chi è che li ha bloccati? Ecco, senza dare colpe, però sicuramente c'è stata una stratificazione politico-burocratica perché c'entrano consiglieri comunali, sindaci, assessori, ma anche la parte burocratica, dirigenziale, che pensa che distribuire, tra virgolette, il potere sul territorio sia un vener meno del proprio potere. Ecco, questo qui, ma potremmo anche precisare in una fase successiva questo aspetto della perdita di potere. Abbiamo già il tema di settimana prossima, Walter, abbiamo già il tema di settimana prossima. Walter, grazie mille per essere qui anche oggi con noi e averci portato come sempre in periferia per capirle meglio. Insomma, bisogna sempre essere aggiornati su quello che succede nelle periferie.